Il gruppo di preghiera San Pio, Santuario Santa Maria della Speranza e il Nucleo di Protezione Civile di Battipaglia hanno organizzato la serata Padre Pio. Il tutto si è svolto ieri presso l'area Mercato del Rione Sant'Anna, dove è arrivato Padre Marciano Guarino, superiore del Convendo Cappuccini di Petrelcina, insieme alla Reliquia del Santo. È stata svolta una breve processione fino alla sede della Protezione Civile, poi è stata celebrata la Santa Messa. Il protettore della Protezione Civile, tra l'altro quest'anno cade anche un anniversario particolare, il cinquantesimo della sua morte e quindi questo rende anche la manifestazione di oggi ancora più significativa, proprio nel ricordo di questo grande santo che ha insegnato la carità, l'amore, ha insegnato il sostegno di Gesù Cristo nella sofferenza. Padre Pio, con la sua particolare esperienza mistica, ma un po' tutti i Santi, come ci insegnano loro, senza Cristo l'uomo non ritrova la sua identità, non vive la dignità del suo essere persona, qualsiasi sia il suo stato di vita. Quindi in questo caso, riferendomi a Padre Pio, che ha avuto tanto a cuore le situazioni difficili dell'esistenza umana, in quanto si è preso cura di ammalati, intesi non solo dal punto di vista fisico, ma tante volte anche dal punto di vista proprio esistenziale, e proprio con l'annuncio del Vangelo ha guarito tante ferite che l'uomo porta dentro. Non è la prima volta qui con la protezione civile, sapete che Padre Pio è il patrono e allora ogni anno, prima da Piedercina adesso sto in un altro convento e la mia presenza c'è stata sempre, portando una delle reliquie del Santo, questa volta il guanto con crosticine di sangue, delle mani, delle stimmate e poi un po' di capelli di Padre Pio. Una processione proprio per sensibilizzare alla fede, alla vicinanza, alla fratellanza e all'accoglienza in un periodo davvero particolare. Sì, Padre Pio poi è quello che raduna le masse, le folle, perché ha tanti devoti da tante parti, quindi è il Santo che ancora fa apostolato, è il Santo che ancora attira le persone per portarli a Dio. E da parte nostra l'esortazione a seguire sempre il Signore, attraverso anche l'esempio dei Santi, a comandarci a Lui, ma essere veri cristiani. Oggi abbiamo bisogno di testimonianza, non tanto di parole, ma anche di fatti concreti, gesti concreti, che veramente danno il segno che crediamo veramente in Gesù Cristo. Per noi volontari di protezione civile è un giorno importantissimo oggi perché Padre Pio è il nostro padrone. Quindi noi andiamo in soccorso in ogni situazione e quindi confidiamo nella sua protezione naturalmente. E' importante anche perché la protezione civile di Battipaglia è gemellata con Pietralcina, luogo natio di Padre Pio. Oggi avverrà la benedizione di alcuni automezzi e attrezzature in dotazione ricevuti dalla Regione o donati dalla BCC o acquistati dall'ente comune. Avverrà anche la benedizione della nostra unità cinofila con il nostro cane Ezora, oltre che il conduttore. Per noi l'incontro con la protezione civile è un incontro fondamentale. Noi partecipiamo anche come amministrazione, essendo appunto anche la protezione civile, è l'incontro soprattutto con le reliquie a cui noi dobbiamo il massimo rispetto come rappresentazione dello Stato come ente locale, con la protezione civile che noi consideriamo sempre essere il nostro fiore all'occhiello, essere il nostro elemento positivo e di spicco per l'amministrazione e la rappresentatività di esse.